A tutte le unità, situazione di emergenza su East Gorgia Freeway. Siamo in contatto, chiamato dei danni. Sono forbito, chiesto di bloccato. Ho iniziato un contatto, il mio veicolo ha subito danno. Sipa, a infastidire l'SCPDX. Il sospetto snotando le sfisci e chiudate, chiedo supporto. Fugiatto diretto, scusami. chieze, accettiamo. Presezza al schiat. Presezza di strisci e chiudate nella tua area. procedi con cautela è stato un contatto attenzione, tricia chiudata perfetto, è stato puntato per eccesso di velocità un giusto diretto verso Hope Canyon Freeway un giusto diretto verso Il battaglio è stato arrestato, ritirarsi.